Al cimitero di Bonamorone, ad Agrigento, ormai saturo, nuovi loculi sono abusivi e illegali. Intervista a Salvatore Danna, gestore del Piano Gatta, da bonificare dai residuati bellici. Ad Agrigento si ripossa in pace o al cimitero Bonamorone, nell'omonima contrada Bonamorone, a Valle delle Costone della Rupe Atenea e con panoramica a sud della Valle dei Templi o nel cimitero di Piano Gatta, in periferia ad ovest della città, tra tanto verde e fuori dal traffico. Il Bonamorone comunale, il Piano Gatta, è gestito da lui, Salvatore Danna, di Favara, titolare dell'impresa Danna e del project financing del cimitero, ossia il finanziamento di un'opera pubblica con capitali privati, allorché l'opera è concessa per un numero di anni al privato, che poi ne ricava rimborso e utili nel corso degli anni. Il contratto tra Comune di Agrigento e Salvatore Danna impone adempimenti e oneri. Ad esempio, Totodanna ormai da tempo rivendica dal Comune la bonifica del 50% della zona dai residuati bellici, sotterrati e risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. E poi il pagamento di alcune cappelle utilizzate per la sepoltura dei morti a Lampedusa ad ottobre. Si tratta di cose semplicissime che il Comune potrebbe fare in maniera immediata. Ne abbiamo parlato ampiamente nell'ultima riunione di circa 15 giorni fa, ancora oggi non ho risposte. Il discorso delle bombe della Seconda Guerra Mondiale, metà aree ancora in fase da queste bombe che bisogna necessariamente levare, chiaramente sminare le aree. Infatti ci troviamo ancora oggi in consegna provvisoria, dopo nove anni di assegnazione della concessione 25-annale. E poi il riconoscimento delle cinque cappelle che il sindaco ha voluto permettere le salme di quei poveri immigrati di quella triste vicenda terribile che è successo di Lampedusa. E non solo. A Bonamorone non sono più concedibili altri loculi. Il cimitero storico è saturo. Ogni altra fossa è abusiva e illegale. Tuttavia, sottolinea Salvatore Danna, a Bonamorone si seppelliscono 540 morti all'anno e a Piano Gatta 110. Alcuni dei morti sepolti a Bonamorone riposano in tombe già costruite da anni, prima che il cimitero fosse dichiarato saturo. E quindi sono legali. Tanti altri invece ripossano in eterno in tombe appena costruite e che sono abusive. L'ho detto anch'io nello spot. Diciamo che se una famiglia grigentina desidera avere la concessione di una cappella e avere tutte le carte in regola e in piena legalità, non può che venire a Piano Gatta, che è l'unico cimitero da Grigento, dove c'è questa possibilità. Mentre a Bonamorone avvengono tutte le cose che veramente da un certo punto di vista mi supiscono e nello stesso tempo mi inorridiscono. Perché? Perché il cimitero era già saturo 15 anni fa. Ad oggi, ogni anno, a Bonamorone vengono tumulate 540 salme. All'anno? All'anno, sì. Mentre a Piano Gatta soltanto 110. Lì è una miniera. È una miniera naturalmente non autorizzata. Avvengono tumulazioni in tutti i posti, in tutti i lati, in tutti i sistemi, in tutte le cose. Gli operai che lavorano lì si propongono ai cittadini che passano lì per le strade, per le viuzze di Bonamorone, la possibilità di comprarsi una cappella. Quindi lei paventa che a Bonamorone vi siano delle concessioni irregolari, quindi abusive? Sì, sì, sì. Guarda, noi abbiamo una concessione, dicevo, 25 annale in esclusiva assoluta. Nessuno può creare nuovi posti salme ad Agrigento, in nessuno dei cimiteri. Tranno che Piano Gatta. Poi c'è il discorso che c'è chi cerca per forza di cose una cappella a Bonamorone e gliela trovano. E abbiamo un elenco infinito di famiglie che purtroppo hanno fatto questa scelta sbagliata, insana, abusiva. E verrà il giorno che chiederemo anche a queste famiglie quanto è ragione. Perché il discorso di Agrigento deve essere chiaro. Il cimitero di Agrigento è il nuovo camposanto di Piano Gatta. Non ci sono alternative. Tutto ciò che avviene dall'altro lato, rispettando chi ha posti nelle cappelle regolari di famiglia, tutto il resto è abusivo. Per cui verrà un giorno che tutti verranno chiamati naturalmente a risponderne di quello che hanno fatto.